Chiara Petrolini, una giovane di 21 anni originaria di Traversetolo, in provincia di Parma, è coinvolta in un'indagine che ha scosso l'opinione pubblica. Le accuse contro di lei sono gravissime, omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere. I sospetti si concentrano sul ritrovamento nel suo giardino di due neonati, nati rispettivamente il 7 agosto di quest'anno e l'anno precedente. Stando a quanto riportato dalla Repubblica, gli investigatori stanno considerando la possibilità che Chiara sia stata vittima di una violenza sessuale, un trauma che potrebbe non aver mai denunciato. La procura di Parma, insieme ai carabinieri, sta valutando se questo abuso possa essere legato in qualche modo ai tragici eventi in cui la giovane è ora coinvolta. Alcuni conoscenti di Chiara hanno raccontato che il presunto abuso risalirebbe a circa due anni fa, proprio poco prima che rimanesse incinta del suo fidanzato. Le indagini stanno cercando di far luce su questa possibile violenza e di capire se abbia influenzato il comportamento della ragazza.